Riteniamo che la delega al governo su una materia di rilevanza costituzionale come l'informazione, il diritto di informare e il diritto dei cittadini ad essere informati sia un errore che ha commesso il Parlamento. Noi riteniamo che questa delega vada stralciata. Certo è sicuramente positivo il fatto che il Ministro sia disponibile a un confronto sul contenuto di quella che dovrà essere poi la delega, però noi riteniamo che una materia così delicata debba essere rimessa nuovamente nelle mani del Parlamento perché è in gioco lo strumento fondamentale della democrazia che è l'informazione, perché senza l'informazione non c'è circolazione di idee, senza informazione non si viene a conoscenza dei fatti e quindi chi non conosce non è in grado poi di scegliere, non è in grado di decidere, non è in grado di esercitare quella sovranità popolare che la Costituzione assegna al popolo attraverso il diritto di voto. Questo per noi è inaccettabile.